La Festa dell'Unità La Festa dell'Unità Il deputato del PD Marco Furfaro Braccio destro di Ellish Line in Toscana Sentiamo La nuova sinistra di Ellish Line Che parte dal basso per rinsaldare Il legame degli elettori con la politica La riforma del testo unico dell'immigrazione Come unico modo per governare Un fenomeno strutturale Ma anche le amministrative a Prato È un Marco Furfaro a tutto tondo Quello che ha parlato ieri sera dal palco La Festa dell'Unità Provinciale Il deputato del PD eletto a Prato È esordito con la soddisfazione Per la buona riuscita della festa Assente dal 2016 E che ha registrato fin qui 10.000 presenze Per poi passare in rassegna I temi caldi della politica nazionale e provinciale Braccio destro della segretaria nazionale in Toscana Furfaro esclude l'ipotesi primaria Per scegliere il candidato sindaco Del centro-sinistra a Prato A Prato intanto c'è una comunità Che si è unita e stretta Nella certezza di dover costruire Un processo politico largo Che parli alla città Che metta insieme il buon operato Della giunta uscente Il partito I rapporti con movimenti Associazioni E tutto ciò che sta fuori di noi Per costruire una coalizione politico e civica unita E questo La forza di questo ragionamento Sta per fortuna tenendo Lontane le divisioni E quindi anche l'ambito delle primarie In casa del PD E dentro la coalizione centro-sinistra Anche grazie all'amministrazione uscente A un partito che comunque si è saputo rinnovare Ci sono 4-5 figure molto spendibili Su cui potremmo contare Da valorizzare Di cui terremo conto Sappiamo noi La giunta uscente Il partito Dove fare di più Perché c'è Prato in ballo E va quindi valorizzato Ciò che abbiamo fatto Ma va costruito Anche qualcosa di buono Per gli anni che verranno Voltiamo pagina Beste cresce ancora Acquistato lo storico lanificio Arca Le novità però non finiscono qui A settembre nascerà infatti La nuova divisione filati Del gruppo fondato dai fratelli Giovanni e Matteo Santi Beste cresce ancora L'azienda dei fratelli Giovanni e Matteo Santi Che nei mesi scorsi si è fusa Col gruppo torinese Holding Moda Che ha rilevato il 51% delle quote Della ditta pratese Ha infatti recentemente acquisito Il lanificio Arca Si tratta di un'impresa d'eccellenza Nella produzione di accessori Come fular, sciarpe e coperte Realizzati dai telai a navette E dell'esperienza di una decina di operatori Altamente specializzati Continuare nel vari gare La nostra offerta Per soddisfare sempre di più Appieno il nostro cliente Quindi i clienti Da Beste in questo momento Possono comprare tessuti Possono comprare capi E da ora appunto anche accessori Proseguono dunque le aggregazioni In casa Beste Che già nel 2022 Aveva acquisito Il lanificio Texco di Montemurlo E nel 2023 La tessitura Serena Un obiettivo Quello di promuovere La sinergia tra imprese Lanciato con forza Da Giovanni Santi Tre anni fa Durante una diretta Di Parliamoci Chiaro Soddisfatto di questa nuova fusione Marco Cini Dell'lanificio Arca Che abbiamo raggiunto Telefonicamente In quanto impegnato A Milano Unica Beste è un'azienda Che segue un percorso Molto interessante Parallelo al nostro Anche se noi siamo Un'azienda molto piccola E molto concentrata Su un prodotto Di alto livello Ma di livello Assolutamente artigianale Quindi in un contenitore così Noi andiamo a comporre Un tassello di un puzzle Molto ben articolato Che guarda al futuro Con una visione nuova E veramente futuristica Con le radici nel passato Ma le novità in casa Beste Non finiscono qui A settembre verrà infatti Fatta un'ulteriore Divisione dell'azienda A quelle tessuti Abbigliamento e Beredo Legata alla raccolta E recupero degli scarti tessili Si aggiungerà infatti La divisione filati In particolare Di origine cotoniera E a tal proposito Beste ha già fatto un accordo Con un coltivatore in Giamaica Che in esclusiva Per l'impresa pratese Coltiverà per 33 acri Il cotone Sea Island Considerato il cashmere Del cotone Partiremo dalla produzione Della fibra Quindi proprio dalle fattorie Dove viene coltivato il cotone Che sono negli Stati Uniti Sono in Giamaica Sono in Egitto Sono in Israele Sono in Grecia E venderemo filati Con questa caratteristica Ovvero tracciabilità E sostenibilità Perché ovviamente Saranno tutti filati organici Un concetto molto sostenibile Che ci permetterà Di essere gli unici In questo momento A offrire ai nostri clienti Una garanzia di questo tipo Licenziati 25 dipendenti Del SICOBAS In sciopero A mondo convenienza Secondo l'azienda I dipendenti Con le loro condotte Hanno messo a rischio L'attività E il posto di lavoro Di 180 colleghi Che non partecipano Alla protesta RL2SRL Società che ha in appalto I servizi di trasporto E consegna dei mobili Di mondo convenienza Ha licenziato I 25 dipendenti Che da settimane Scioperano e manifestano Appoggiati dal SICOBAS RL2 contesta I 25 addetti La responsabilità Del blocco illegale Anche tramite atti violenti Del servizio di consegna Nel deposito Di Campi Bisenzio Secondo l'azienda I dipendenti in questione Supportati dal SICOBAS Stoscano Con le loro condotte Hanno messo a rischio Chiusura L'attività produttiva E quindi anche Il posto di lavoro Di 180 colleghi Che non partecipano Agli scioperi La protesta Di dipendenti Iscritti al SICOBAS È iniziata A fine maggio I manifestanti Chiedono l'applicazione Del contratto nazionale Della logistica Aderente alle mansioni Di chi trasporta i mobili Orari di lavoro Più dignitosi E maggiori garanzie Di sicurezza L'azienda Da parte sua Ha ribattuto Che ha sempre operato Correttamente E che non applica Il contratto Della logistica In quanto si occupa Di global service L'avvertenza È approdata Al tavolo di crisi Regionale Ed anche in Parlamento Nelle scorse settimane Le forze dell'ordine Sono ripetutamente Intervenute Al deposito Di via Gattinella A Campi Bisenzio Dove i manifestanti Si erano sdraiati Davanti ai cancelli Impedendo il transito Dei mezzi Sabato scorso La protesta Del sicoba Si è spostata All'interno Del punto vendita Di mondo convenienza Al confine Tra Prato E Campi Bisenzio A seguito Di quell'episodio Il colosso Dell'arredamento Low cost Comunicò L'intenzione Di procedere legalmente Contro gli autori Delle condotte Oggi È giunta La notizia Del licenziamento Dei 25 dipendenti Da parte di RL2 Arrivato dopo Numerose altre Contestazioni disciplinari Licenziamenti Di cui i lavoratori In sciopero Hanno appreso Dalla stampa Fa sapere il Sicobas Che definisce Vergognosi I provvedimenti Nel merito E nel metodo Secondo Luca Toscano Del Sicobas L'azienda È più che altro Interessata A provare A spaventare I più di 100 lavoratori Che da ieri Sono entrati in sciopero A Torino E fermare Un processo Che sta vedendo Centinaia di lavoratori In tutta la filiera Mondo Convenienza Raccogliere il messaggio Di speranza Partito da Campi Bisenzio Il Sicobas Annuncia Che il presidio In via Gattinella Proseguirà E invita le istituzioni E la società civile A stringersi Più di prima Ai lavoratori In sciopero È terminato Il restauro Della fontana Del pescatorello In piazza Duomo Dopo la via libera Della soprintendenza Potranno partire I lavori di restauro Anche delle fontane Di piazza Mercatale E di piazza San Francesco Si sono conclusi I lavori di restauro Della fontana Del pescatorello Tirata a lucida E nuovamente visibile Agli occhi dei pratesi E dei turisti La fontana A fine 2022 È stata interessata Da un intervento Di restauro e ripulitura Grazie al lavoro Congiunto Di comune di Prato E Publiacqua L'azienda Ha deciso Di sostenere economicamente L'operazione di restauro Con 130.000 euro Attraverso lo strumento Dell'Art Bonus Che interesserà Tre fontane storiche Della città Quella di piazza Duomo Già completata La fontana del magro Di piazza Mercatale Della fontana E dei delfini Di piazza San Francesco La superficie Marmorea della fontana Una delle più famose Di Prato Resalente alla seconda Metà dell'Ottocento Scolpita da Emanuele Caroni Olisse Cambi Sul progetto di Mariano Falcini Era fortemente degradata Per effetto Degli agenti atmosferici E dell'azione Dell'acqua corrente Fattori che hanno portato Negli anni Alla formazione Di incrostazioni calcare E di alghe Aggiuntesi ai depositi Delle polveri sottili L'intervento di restauro Curato dalla ditta Mannucci Geometra Vinicio SRL È stata finalizzata La pulizia delle superfici Al consolidamento Sigillatura di fratture E fessurazioni Un'attenzione particolare È stata riservata Al pescatorello Particolarmente usurato Dal flusso continuo d'acqua Siamo molto contenti Di aver istituito Ai pretesi Anche ai turisti Una bellissima fontana Come quella del pescatorello In piazza Duomo Che ha avuto Un lungo lavoro Di restauro E di pulizia Ma che ora è tornata A splendere In tutta la sua bellezza E per questo Ringraziamo la ditta Che ha fatto il lavoro E anche naturalmente Publiacqua Che è la società Che tramite l'Art Bonus Ha finanziato Il restauro Di questa fontana Ma anche Delle altre due Che affronteremo Nei prossimi mesi Quella di San Francisco E quella in piazza Mercatale Durante i lavori di restauro Abbiamo visto Che la pompa interna Che permette Di fare il ricircolo Dell'acqua Della fontana Era guasta E quindi Stiamo affidando I lavori Per fare questo Piccolo intervento Di sostituzione Che permetterà Di portare l'acqua All'interno della fontana Quindi renderla Ancora più funzionale E ancora più bella Un lavoro Non importante Che contiamo di fare Anche questo A stretto giro Gli interventi Sulle altre due fontane Cominceranno Appena ci sarà Il via libera Della soprintendenza E adesso le previsioni Del meteo Come sempre a cura Del consorzio Lama Saluto dalla sala meteo Del consorzio Lama Le immagini della satellite Mostrano ancora Il movimento Delle nubi Da ovest Verso est Su buona parte Della Dell'Europa Centro settentrionale E gli strati Più bassi Invece Abbiamo la risalita Di aria Moderatamente Più calda Dalle coste Della Nord Africa Verso buona parte Della penisola italiana Aria calda Ma anche carica Di umidità Per quanto riguarda La Toscana Il resto Della giornata Di oggi Prevalenza Di cielo sereno Poco nuvoloso Nel corso Del pomeriggio Non possiamo escludere L'occorrenza Di qualche breve Rovescio Anche temporale Nelle zone Più interne Della regione Saranno dei rovesci Molto Localizzati Temperature Nei valori Massimi Quest'oggi Stazionare O in lieve Aumento Rispetto a ieri Potremo raggiungere I 34 35 Gradi Nelle località Più calde Soprattutto nella Piana di Firenze Prato Pistoia Diamo un'occhiata Anche alla Fine settimana Cambia poco La configurazione Sinottica Rimane Pressoché La medesima Quindi nel corso Della giornata Di sabato Al mattino Qualche Nube bassa Lungo la Costa E nelle vallate Dell'interno Poi prevalenza Di bel tempo Temperature Nei valori massimi Stazionari O in ulteriore Lieve aumento Fino a circa 35-36 gradi Domenica Cambia poco Al momento Sembra essere Una delle giornate Più calde Di questa recente Andata Di calore Prevalenza Ancora Di cielo Sereno Su tutta La regione Valori massimi Delle temperature Potranno raggiungere 37-38 gradi Con questo è tutto Grazie Dell'attenzione Termina qui Questa edizione Del nostro Tg L'appuntamento È per questa sera Le 20.30 Grazie per essere stati con noi Una buona giornata E arrivederci Grazie